buongiorno da torino conaca siamo all'ex gondrand di viacinia come potete vedere le demolizioni iniziate quattro mesi fa sono giunte al termine all'interno della vecchia fabbrica non c'è più nessuno ora si tende solo l'inizio dei cantieri veri e propri che porteranno la riqualificazione di questo isolato dimenticato e abbandonato per troppo tempo